Eccoci, allora volevo spiegare bene questo concetto di letteralmente il nostro progetto di giornale che trovate su www.letteralmente.online e volevo spiegare come funziona questa cosa del diventare anche una casa editrice. Allora, è molto semplice, prima di tutto il titolo l'ho abbreviato, letteralmente diventa una casa editrice, diventa anche una casa editrice, perché comunque letteralmente rimarrà soprattutto giornale, però qui un po' ci divertiamo a utilizzare i termini, perché sono tutte grosse parolone, giornale, casa editrice, sono termini che noi prendiamo a prestito per spiegare in modo semplice un concetto. In realtà, prima di tutto letteralmente è online, letteralmente è punto online, non è un periodico, quindi non è soggetto alle leggi sui periodici, è un blog, è un blog gestito da volontari, i volontari dell'Associazione Sole e Luna di Bologna, iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Bologna, che tengono questo blog, che è appunto letteralmente punto online. Ed è anche il giornale di un canale YouTube, il canale YouTube Finestra Libera, del sottoscritto e di Massimiliano. Chi segue già il nostro canale YouTube sa chi siamo, chi non lo sa può andare appunto su YouTube e cercare Finestra Libera e iscriversi al nostro canale. Bene, stesso discorso, prendiamo a prestito un parolone grosso, vale per casa editrice, nel senso che in realtà non diventiamo legalmente una casa editrice, però chiunque avrà la possibilità da oggi se socio dell'associazione, che tra l'altro è gratuito diventare socio dell'associazione, ma diciamo che comunque sono benvenute le offerte, le donazioni, perché comunque le spese ci sono e le affrontiamo noi volontari, volontariamente appunto. Sono poche perché gestiamo tutto virtualmente, è una situazione virtuale che non ha una sede fisica, la nostra sede è il dominio che abbiamo acquistato www.letteralmente.online, che naturalmente non costa come pagare l'affitto di una sede fisica che tutti i mesi ti costano 500, 1000 euro, ci costa pochi euro all'anno ma comunque ci costa, quindi anziché 1000 euro all'anno ci costeranno, mi ricordo un dominio 10-20 euro all'anno più lo spazio web, quindi il servizio di hosting per chi si intende di cose tecniche, gli euro da 20 diventano 30, 40, 50, vogliamo esagerare, però insomma alla fine con 50 euro paghiamo tutto, una sede virtuale e tutto quello che ci serve per andare avanti, per stampare libri, per tutto quanto. E stampare libri è molto semplice, noi non facciamo altro che essere una casa editrice, tra virgolette, in realtà molto semplicemente, sempre come associazione Sole e Luna, sempre come giornale letteralmente punto online, non facciamo altro che aiutare le persone ad autopubblicarsi tramite due semplici piattaforme che sono per quanto riguarda i libri digitali, gli e-book, gli e-libri come li chiamo io, street lib e per quanto riguarda eventuali coppie cartacee, che tra l'altro l'autore che vorrà pubblicare come socio dell'associazione tramite Snail Space Edition, così si chiama la casa editrice, tra virgolette casa editrice, dovrà autopagarsi le coppie perché Lulu chiede dei soldi, naturalmente chi deve mettere fuori questi soldi, ognuno paga per sé naturalmente, quando non ci sono spese, non ci sono spese, se ci sono spese se le paga chi vuole spendere, cioè nel senso in questo caso l'autore che decide di avere anche delle coppie cartacee del libro, se le autopaga, Lulu ha dei prezzi, potete anche da soli andare su lulu.com, c'è il bottone scritto preventivo, provate a mettere quante pagine ha il vostro libro, che tipo di copertino volete, se è rigido o morbido, e vi dice subito quanto costa una copia, naturalmente più coppie ordinate meno costa, comunque sarà tipo 5 euro una copia cartacea, quindi magari uno ci tiene ad avere anche qualche copia cartacea del proprio libro che pubblicherà con l'associazione, perché magari ne vuole regalare una copia, l'amica ne vuole regalare una copia, al pari ne vuole, magari vuole fare una piccola presentazione di un libro, non so, presso il club di lettura dei tali e della propria città e quindi magari spera di vendere qualche copia, quindi uno magari ne fa stampare una decina di copie cartacee da vendere in quell'occasione, insomma uno è libero se vuole di usufruire anche di questo servizio, però il concetto è che tutti ci autopubblichiamo, in realtà non esiste nessuna casa editrice, in seno all'associazione Sole Luna, non esiste nessun giornale, esiste un blog che è www.letteralmente.online e esistono due piattaforme che noi non c'entriamo niente, le usiamo e basta, che sono streetlib e lulu, ok? lulu.com e streetlib.it, forse punto it, andate comunque cercate streetlib su google, lo trovate subito, ecco questo per spiegare un po' legalmente il tutto, poi non cambia niente, di fatto siamo una casa editrice, di fatto siamo un giornale, però certo fiscalmente non possiamo e non vogliamo essere un giornale, non possiamo e non vogliamo essere una casa editrice, anche perché vogliamo essere molto liberi, questa è un'associazione culturale libera, non c'è nemmeno una quota sociale fissa, liberamente siamo nati, liberamente vogliamo restare come il canale Finestra Libra dove nessuna azienda ci paga per dire se un prodotto è buono o non buono, di solito ci occupiamo di prodotti vegani o almeno vegetariani, il giornale è libero, i soci dell'associazione che ad esempio Cristina e Fabio che tra l'altro ringrazio sono i più attivi, hanno autonomamente le loro chiavi virtuali della sede virtuale del giornale, entrano dentro, pubblicano gli articoli che vogliono pubblicare, nessuno controlla, io a volte posso permettermi di dire guarda Fabio hai dimenticato la foto nel tuo articolo, guarda Cristina c'è una punteggiatura sbagliata secondo la mia opinione, però io sono stato eletto dai soci dell'associazione come coordinatore, non dico neanche presidente dell'associazione perché non mi piace, proprio non è questo, il nostro tipo di associazionismo è libero, quindi non c'è un presidente, non c'è, non ci sono vincoli, non ci sono obblighi, è tutto ripeto molto molto libero. Chi fosse interessato a partecipare a questa nostra associazione culturale abbiamo anche una web radio, Radio Yoga Network, ci trova su www.letteralmente.online e su www.coscienzospirituale.org che è un altro progetto che porto avanti con Nadia che saluto, quindi prendete nota www.letteralmente.online e www.coscienzospirituale.org oppure scrivete a radioyoganetwork.com, ci sono altri indirizzi elettronici ma tanto che voi scriviate a uno o un altro, la posta arriva sempre al coordinatore che sono io, quindi gli altri visto che non me li ricordo faccio prima dirvi questo, radioyoganetwork.com e vi spieghiamo tutto, ok? Ma comunque su, ripeto, scusate se vi annoio, www.letteralmente.online e su www.coscienzospirituale.org trovate tutte le informazioni, quello che facciamo, come aderire, come far parte del nostro gruppo, della nostra associazione, così potrete pubblicare anche voi i vostri articoli sul giornale, potrete pubblicare i vostri ebook come Snail Space Edition, potrete realizzare trasmissioni per la radioyoganetwork, tutto è basato sul volontariato, quindi chi si vuole fare avanti è il benvenuto. Bene, allora ho parlato abbastanza, oggi è il 3 giugno, sono le ore 15 e 12 minuti per chi mi sta ascoltando in diretta, ma per chi mi sta ascoltando in replica potrebbe essere il 3 dicembre 2027, per chi mi sta ascoltando in diretta sono le 15 e 13 minuti, lunedì, 3 giugno 2019, grazie per la pazienza, ma erano precisazioni necessarie e è una specie di audio tutorial questo, per chi vuole avvicinarsi alla nostra associazione culturale, al nostro giornale www.letteralmente.online, al nostro tempio, alla nostra radio www.coscienzospirituale.org, per chi si vuole avvicinare al nostro canale YouTube Finestra Libera, questa era una specie di audio tutorial di chiarimento di alcuni punti, così che sia tutto più semplice da capire, se avete altre domande posso fare un altro audio tutorial sempre qui in diretta su Radio Yoga Network. Bene, buona giornata a tutti o buonanotte se mi state ascoltando in replica di notte, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.